Marco Colaizzo suona la carica poche ore dalla super sfida con la Recanatese attesa domenica pomeriggio al Civitelle. Un match vibrante perché si affrontano due squadre che non possono sbagliare seppur per obiettivi diversi. Vincere a tutti i costi non abbiamo scelta dice il numero uno degli alto molisani che carica squadra e tecnico. L'Agnonese è in forma ma ha le prese con due assenze pesantissime. Non ci volevano tagliacorto Colaizzo che come sempre è vicino alla squadra e confida in una grande prova da parte dei suoi. Ancora sarà in campo anticipa il presidente che invece recrimina per l'assenza di Albanese. Un grande giocatore dice oggi sgambatura in famiglia e prove generali dell'undici che dovrà scendere in campo. Senza Ribeiro come detto spazio ad Ancora. L'ex Taranto non è al top ma non può fallire un appuntamento che sa tanto di occasione per rilanciarsi e per far ricredere gli scettici. In difesa l'Itterio versione centrale e complice l'assenza di Bisceglia che ne avrà ancora per un po'. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.